L'avvocato Pina Blasiotti è la nuova coordinatrice dell'associazione Noi Verso della città di Giulianova. L'ufficializzazione è arrivata nella giornata di ieri da parte del capogruppo consigliare Livio Persiani e consigliere comunale Carina di Valerio, d'accordo con il sindaco Ivan Costantini, che di fatto hanno disegnato Blasiotti come coordinatrice cittadina dell'associazione Elista Noi Verso e che prenderà parte alla prossima tornata elettorale. Pina Blasiotti, oltre all'attività forense e rappresentante del comune di Giulianova, insieme all'ASP2, componente per noi verso della Commissione Comunale per le Pari Opportunità. Per me rappresenta la prosecuzione di un cammino già iniziato nel 2019 e quindi il fine è proprio quello di perseguire in concreto gli obiettivi che già c'eravamo prefissi insieme a tutti gli iscritti nella lista, amici e simpatizzanti, quindi di creare una lista valida, capace e competitiva in vista delle prossime elezioni comunali. Ovviamente ha detto giustamente bene elezioni comunali che ci saranno ad anno nuovo. a maggio 2024, quindi già state preparando una vostra lista che appoggerà ovviamente l'attuale maggioranza. Sì, ci stiamo riorganizzando proprio in questo senso, in vista delle nuove elezioni comunali e quindi ci stiamo un attimo risentendo tutti anche per poter mettere insieme tutte le idee e riorganizzarci. Ovviamente è ancora presto, ma obiettivi a lungo termine per la vostra lista? Dobbiamo ancora sentirci tutti e sicuramente verrà fatto comunque a stretto giro e la nomina poi tra l'altro è stata solo dell'altro ieri, quindi avrò modo di sentire tutti e poi anche di relazionarmi con il sindaco e con gli altri coordinatori uscenti.